Ciao amici bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi vi propongo un tour di fantasmi e leggende legate a Edimburgo, capitale della Scozia, una città colma di fascino e storia. Dovete sapere che parte di questo fascino è dovuto proprio alle numerose leggende di fantasmi secondo le quali Edimburgo sarebbe addirittura uno dei luoghi più infestati d'Europa. Ma come sempre se i contenuti del mio canale vi possono piacere vi invito ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto ma soprattutto attivate la campanellina delle notifiche se non volete perdervi i miei prossimi video. Per chi non mi conosce io sono Sabrina e sul mio canale racconto storie, leggende, casi e fatti misteriosi a sfondo paranormale ma affronto anche temi spirituali ed esoterici. Penso di aver detto tutto quindi mettetevi comodi, sigla e iniziamo subito con la storia di oggi. Il protagonista di una delle più celebri leggende di Edimburgo è John Kisley, un uomo benestante che nel 1688 chiese il divorzio dalla moglie. Durante il processo il giudice George Lockhart stabilì però che egli avrebbe dovuto pagare alla moglie una somma consistente. John furioso per la sentenza un giorno seguì il giudice all'uscita della chiesa ed è così che gli sparò uccidendolo sul posto. Sfortunatamente per lui lo catturarono immediatamente e torturarono amputandogli il braccio destro col quale aveva sparato il colpo fatale. Lo giustiziarono nella piazza di Grace Market e lasciarono pensolare il corpo come munito per il resto della popolazione quasi a ricordare quale fosse la pena per gli omicidi. La cosa curiosa è che il corpo però scomparve. Da allora cominciarono a circolare leggende legate ad un fantasma senza un braccio che urlava e terrorizzava le persone lungo il Royal Mill. Pensate che la storia sia finita qui? Non esattamente. Nel 1965 alcuni operai che stavano ristrutturando un cottage scoprirono uno scheletro murato senza un braccio. Gli esperti determinarono presto che si trattava del corpo di John Chrisley ritrovato dopo quasi 300 anni e così lo seppellirono in uno dei cimiteri della città. Il braccio mancante non fu mai ritrovato e secondo la leggenda continua a tormentare il vicolo del diavolo in attesa di afferrare chiunque lo disturbi. Ma proseguendo nel nostro ghost tour troviamo una leggenda molto conosciuta nella zona ovvero quella del fantasma di Annie al Mary King Close. Come avrete intuito sotto al Royal Mill la via centrale della capitale la città nasconde molti segreti. Fitti cunicoli sotterranei che nel corso dei secoli hanno rappresentato il lato oscuro di Edimburgo. Distillerie clandestine di whisky, covi di contrabbandieri, luoghi di perdizione, abitazioni infestate, storie di streghe e fantasmi. Beh amici dovete sapere che questa zona della città pare non abbia mai avuto vita facile e la storia lo testimonia bene. Tuttavia nel 1645 Edimburgo fu colpita da una grave epidemia di peste bubonica e il Mary King Close fu uno dei quartieri più colpiti dal morbo. Secondo la leggenda gli accessi al veicolo furono chiusi e gli abitanti vennero murati vivi al suo interno abbandonati al loro destino. Non c'è da stupirsi se da allora i fenomeni paranormali si sono moltiplicati e gli spettri di quelle povere anime sono visti vagare tristemente per i close che sarebbero dei piccoli vicoli immersi tra le viguzze delle old town. Tuttavia uno dei close più famosi per l'appunto il Mary King close prende il nome da Mary King figlia dell'avvocato Alexander King vissuto nel XVII secolo. Già a quei tempi si riteneva che quel particolare close fosse infestato da fantasmi. Bisogna ricordare che a quell'epoca la stagnante palude del Norlock emetteva gas dall'odore pungente che se inalati provocavano allucinazioni. Dopo essere rimasto chiuso per tanti anni nel 2003 il Mary King close è stato riaperto al pubblico come attrazione turistica dove è possibile ancora oggi ripercorrere i suoi umidi tunnel sotterrani scoprendo come si viveva un tempo nella capitale scozzese e magari chissà incontrare anche il fantasma di Annie. La sua è una delle leggende di Edimburgo più conosciute. Annie era una bambina di cinque anni che ebbe la sfortuna di trovarsi presso il Mary King close quando le guardie cittadine arrivarono e lo chiusero per contenere la peste. Secondo altri sensitivi invece la famiglia della bimba la abbandonò proprio perché aveva lei stessa la peste. Qualunque fosse la sua vera storia il malinconico fantasma di Annie si agirebbe solitario per i vicoli di Mary King close piangendo per aver perso la sua bambola di pezza. Molti visitatori infatti ancora oggi portano bambole giochi o semplicemente caramelle per consolare l'anima della bimba. Ma proseguendo il cammino in questo tour incontriamo la leggenda di Delon Piper il luogo che racchiude al suo interno questa storia sarebbe il castello di Edimburgo considerato uno dei luoghi più infestati della città probabilmente a causa dei tanti prigionieri morti all'interno proprio delle sue carceri. Vi stupirete invece che una delle leggende più popolari del luogo non riguarda un detenuto ma bensì un bambino. Un bambino suonatore di Cornamusa conosciuto da tutti come Lone Paper. Tanti secoli fa quando scoprirono gli antichi tunnel sotto il castello si pensò che i difensori della fortezza li avessero costruiti per collegare segretamente l'edificio ad altre parti della città. Ma altre teorie sostengono che apparentemente sembravano portare verso Holyrood Palace la residenza dei sovrani scozzesi che sorge alla fine del Royal Mill. Un susseguirsi di strade in discesa che dal castello arrivano appunto all'Holyrood Palace. Tuttavia nessuno era poi così temerario da avventurarsi. Mandarono quindi un piccolo suonatore di Cornamusa in una notte d'estate di un imprecisato anno di qualche secolo fa. Si racconta che un ragazzo dai capelli rossi vestito con un logoro kilt lasciatoli probabilmente dal padre e con ancora più logore scarpe appartenute forse al nonno fu appunto scelto per una missione che non sembrava poi così pericolosa con l'intenzione di seguire il suono della musica dall'esterno e riuscire a stabilire il percorso dei cunicoli sotterranei. Tutto stava procedendo bene difatti la faccenda funzionò per un po' finché circa metà del Royal Mill più o meno in corrispondenza della chiesa di Tronkirk la musica cessò. Qualcuno osò avventurarsi nel tunnel per cercarlo ma nessuno trovò nulla letteralmente. Nessuna traccia del corpo e nemmeno della cornamusa del giovane suonatore. Decisero quindi di murare l'entrata dei sotterranei e dimenticare l'accaduto e la triste storia potrebbe concludersi qui ma non ad edimburgo dove i fantasmi sono di casa. Da allora infatti e nel corso dei secoli c'è chi ha sentito nelle notti più fredde e silenziose il suono di una solitaria cornamusa provenire dai sotterranei del castello e lungo la Royal Mill come fosse il lamento di un'anima innocente che cerca in vano di trovare un'uscita dalla sua prigione. Bene amici non finisce qui il nostro tour perché ora ci addentriamo in un cimitero per parlarvi del fantasma di Bloody McKenzie. Qual è il posto migliore per storie di fantasmi se non un cimitero? Ma questo non è un cimitero qualunque perché proprio questo cimitero è considerato uno di quelli più infestati al mondo. Protagonista in questa vicenda è Sir George McKenzie un avvocato del re Carlo II d'Inghilterra. Si racconta che fosse un uomo rispettato devoto alla famiglia e al lavoro. In pochi conoscevano il suo lato scuro. Il sovrano in persona affidò a George il compito di perseguitare i covenaters scozzesi seguaci del covenant che significa convenzione o patto, una specie di professione di fede religiosa nazionale appartenenti ad un movimento religioso presbiteriano che vennero così chiamati durante la rivoluzione inglese. Proprio adiacente al cimitero sorgeva la Covenaters Prison dove nel 1679 a seguito delle battaglie di Botwell Brink vennero imprigionati e torturati migliaia di Covenaters seppelliti infine tra le mura. Furono proprio questi eventi che valsero all'avvocato il titolo di Bloody Mackenzie ossia il sanguinario. Alla sua morte nel 1691 seppellirono lo stesso proprio in questo cimitero in un mausoleo in pietra scura che ironia della sorte conteneva i resti di gran parte delle sue vittime. Si dice che il suo spirito riposo in pace fino ad una fredda notte del 1999. Un senza tetto pensò bene di cercare il rifugio da una tempesta proprio all'interno del mausoleo approfittandone per andare alla ricerca di qualche piccolo tesoro all'interno delle tombe. Tuttavia quando provò ad aprire quella del sanguinario avvocato un buco improvviso si aprì sul pavimento inghiottendolo e imprigionandolo tra ossa e resti umani. L'uomo ovviamente fuggì terrorizzato e nessuno lo vide mai più. Pari sia stato proprio questo evento a risvegliare il poltergeist di McKenzie che da quella notte non ha più smesso di terrorizzare i visitatori del cimitero procurando loro graffi ferite ed ematomi. Gli eventi paranormali sono stati così numerosi da ricorrere addirittura all'intervento di un esorcista. Colin Grant tuttavia non ebbe successo nel tentativo di riportare la pace in quel luogo sacro e anzi pochi giorni dopo la sua visita morì di infarto. Ma amici un'altra storia molto interessante legata ad un cimitero è quella del pittore scozzese David Allan morto nel 1796 e sepolto al cimitero di Calton. Ma siamo sicuri però che fosse realmente morto al momento della sepoltura? Alcuni indizi fanno pensare di no. In seguito ad un attacco di epilessia pare che Allan sprofondò in un coma che la moglie confuse per decesso. A differenza delle altre lapidi presenti nel cimitero la sua cominciò presto a deteriorarsi. Una volta disotterrata la bara scoprirono al suo interno diversi graffi i quali fecero presumere che il povero pittore fosse stato sepolto vivo dalla sua stessa moglie. Si dice che anche dopo la morte non abbia smesso di dipingere. Infatti dietro la sua lapide si trova l'immagine di un volto urlante in cerca di aiuto considerato il suo ultimo ritratto e questo è davvero molto inquietante. Bene amici siamo quasi arrivati alla fine del nostro ghost tour e uno dei posti più oscuri di Edimburgo che sicuramente non potevo non citare è il North Bridge il ponte più macabro della capitale scozzese collegato a storie di streghe e maledizioni. Il North Bridge oggi collega la Old Town con la New Town mentre un tempo serviva ad unire le due aree dalla città divise dalla palude di Norlock. Nei tempi bui dell'inquisizione le donne accusate di stregoneria venivano gettate proprio in quella palude. Se annegavano significava che non erano realmente delle streghe mentre se rimanevano a galla erano ritenute seguaci del demonio e condannate a morte. Come è evidente la sorte di queste donne era purtroppo segnata in partenza. In seguito a questi tragici il North Bridge assume il nome di ponte del diavolo. Nel XIX secolo decisero di abbattere la struttura originaria per ricostruirne una più resistente ma al momento dell'inaugurazione nessuno degli abitanti ancora intimoriti dagli antichi retaggi magici vuole attraversarlo per primo. Concordarono così di affibbiare l'onore alla donna più vecchia della città che sfortunatamente però morì proprio la sera prima dell'inaugurazione. A quel punto per non scuotere ulteriormente l'animo suscettibile degli abitanti il corpo dell'anziana donna venne posto su di una carrozza fingendo che ella fosse ancora in vita per farle attraversare il nuovo ponte. Ovviamente l'inganno fu smascherato e da quel giorno il North Bridge viene chiamato anche il ponte dei morti. Pensate che ancora oggi qualche scaramantico si rifiuta di attraversarlo a piedi e non è raro che coloro intenzionati a suicidarsi lo scelgano come luogo dove compiere l'estremo gesto. Bene amici ecco che siamo arrivati all'ultima storia di questo lungo tour. Siamo passati da luoghi infestati ad anime arrabbiate e per terminare il racconto sulle leggende di Edimburgo vi racconterò un'ultima storia legata alle fate una leggenda quasi fiabesca ma con dei risvolti malinconici. La leggenda narra che nel 600 vivesse ad Edimburgo un bambino col potere di vedere le fate. Esse lo avevano scelto come tamburino per aglietare le loro serate e così ogni giovedì a mezzanotte si davano appuntamento sulla cima di Calton Hill. Una sera però un uomo particolarmente invidioso decise di impedire al bambino di raggiungere il luogo dell'incontro. Con una scusa riuscì a trattenerlo fin quasi a mezzanotte e quando il bambino cominciò a correre verso la collina l'uomo lo inseguì ma ad un tratto si sentirono delle urla e del ragazzino più nulla. Si racconta che le fate infatti avevano deciso di farlo sparire nel nulla come punizione per non essere arrivato puntuale e non aver mantenuto la promessa. Ancora oggi camminando per Calton Hill alla mezzanotte di giovedì c'è chi giura di sentire il suono di un tamburo provenire dalla cima della collina. La città scozzese è insomma ricca di misteri e queste amici sono solo alcune delle tante storie e leggende legate a questo posto. Fatemi sapere nei commenti se ne conoscete altre, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, noi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui sul mio canale con tante altre storie misteriose. Ciao! Ciao!